Ciao a tutti, folettine e folettine, bentornati in questo nuovissimo video. Oggi siamo al 30.07.2018, quindi si chiude il giveaway di New Chic, quindi faremo l'estrazione. Andremo a copiare questo link qua in alto, qui. E cliccheremo lo add comment, così lui vedrà tutti i commenti che sono stati fatti. Così potremo scegliere un vincitore. Spero che esca come primo commento chi ha scritto hashtag partecipo, così non dovrò leggere tutte le offese. Allora, 1384 commenti, clicchiamo random picket winner. Questa persona, Giulia CH, non può partecipare perché non ha scritto hashtag partecipo. Mi dispiace tesoro. Nemo 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 Nemmeno, non ha scritto hashtag partecipo. Silvia neanche. Questo qui neanche, Michela. Bisogna aver scritto hashtag partecipo. Quindi solo chi avrà scritto hashtag partecipo vincerà. Adesso io non parlo più e metterò una musica di sottofondo finché non uscirà il commento con hashtag partecipo. Perché qui vedo un sacco di insulti e offese dai stemmi e non mi sembra il caso neanche di leggerle. Ciao, ciao. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.